Benvenuto in MPS Monitor, la soluzione più completa per il monitoraggio e la gestione remota di stampanti e multifunzione. Questo breve tutorial ti spiegherà come richiedere assistenza usando il sistema di ticketing. Per ricevere supporto e per risolvere problemi inerenti all'utilizzo del portale e al funzionamento del software, MPS Monitor ha messo a punto un'area denominata Help. Al suo interno puoi notare una sezione area riservata alle FAC e un'altra in cui è possibile creare e inoltrare ticket di assistenza al supporto tecnico. Prima di aprire un ticket al supporto però, controlla la sezione dedicata alle FAC. In quest'area continuamente aggiornata puoi trovare facili soluzioni ai problemi più ricorrenti. Se il problema che cerchi non è presente fra le FAC oppure se non è possibile risolverlo autonomamente, allora è necessario aprire un ticket di assistenza. Clicca su Elenco ticket nel menu a sinistra. All'interno della pagina clicca sul tasto Crea. Compila tutte le maschere e scrivi una descrizione del problema cercando di essere il più chiaro possibile. A destra, utilizzando il tasto Scegli file, puoi allegare delle immagini o file del problema riscontrato. Alla fine clicca su Salva. Da questo momento il ticket sarà visibile al supporto tecnico e potrà essere gestito. Puoi monitorare lo stato del ticket all'interno di questa pagina e controllare se ci sono ulteriori richieste da parte del team del supporto tecnico. Se non hai la possibilità di accedere all'area ticket, invia una mail al supporto tecnico all'indirizzo help-mpsmonitor.com oppure telefona al numero 080 30 22 927. Se il problema è relativo a un dispositivo, consigliamo di aprire il ticket di assistenza direttamente dalla pagina della stampante. Nel menu a sinistra clicca sul cliente, poi su Dispositivi e seleziona il dispositivo su cui vuoi aprire il ticket di assistenza. In alto a destra, clicca sul pulsante arancione. Compila tutti i campi del ticket. In questo caso vedrai che è già presente il serial number che indica la stampante da investigare. Inserisci la descrizione del problema riscontrato nell'apposito campo Descrizione. Alla fine clicca su Salva. Grazie per aver seguito questo tutorial di MPS Monitor.